Le erbe selvatiche si stanno, cambiamo argomento, affermando sul mercato perché sono diventate di tendenza in diversi settori, dalla moda alla cosmetica. Tutti i dettagli nella scheda di Marilena Pastore. Grande ritorno delle erbe selvatiche, dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda. La svolta naturalistica degli italiani ha segnato un boom che ha portato le superfici coltivate in Puglia ad un incremento del 300%, con la domanda nazionale salita a 25 milioni di chili. Lo riporta un'analisi di Coldiretti Puglia elaborata in occasione della chiusura del primo corso sulle erbe officinali, aromatiche e mangerecce organizzato da Coldiretti Puglia e l'Università di Foggia. Le potenzialità del settore in provincia di Foggia sono notevoli, con la produzione di erbe selvatiche che potrebbe più che triplicare con notevoli effetti sull'occupazione e l'indotto, limitando la dipendenza dall'estero a quelle piante esotiche che per condizioni climatiche e ambientali non sono coltivabili in Puglia. Così come le piante selvatiche potrebbero divenire una valida alternativa in Salento per non condannarlo nuovamente alla monocultura dell'olivo dopo il disastro avvenuto a causa della xylella. Lo afferma Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia. Sono quasi 300 le piante prodotte che, secondo Coldiretti, grazie alle particolari proprietà, vengono utilizzate per scopi erboristici, farmaceutici, cosmetici, licuristici e culinari, per la preparazione dei prodotti per la profumeria, l'industria dolciaria, infusi, per la difesa delle colture, per l'igiene della persona, della casa e per l'ottenimento di oli essenziali o tinture per l'abbigliamento. Tra le altre, secondo Coldiretti, ci sono basilico, elicriso, menta piperita, lavanda, stevia, rebaudiana, il peperoncino, tarassaco, maggiorana, timo, rosmarino, salvia, eucalipto, mirto, stevia e lipia, zafferano, camomilla, echinacea e bardana. Un patrimonio di conoscenze attivamente legate alla terra, all'agricoltura, che esprime ancora la ruralità che permea il tessuto sociale e culturale della Puglia e che, secondo Coldiretti, va conservata, valorizzata e divulgata. Sono circa 150 le aziende agricole pugliesi impegnate con una superficie coltivata a piante aromatiche, medicinali e da condimento, di oltre 450 ettari che coprono però appena il 3% del fabbisogno nazionale, secondo una stima sempre di Coldiretti sulla base di dati ISAT.